Skoll! Ue come va? Spero di trovarvela grande dopo le varie vicissitudini vissute con Lorenzo e Clara, il team di Adaptive. Abbiamo preparato l'evento, il primo evento di formazione di Adaptive nel mio studio, quindi abbiamo avuto modo anche di registrare un sacco di contenuti. Trovate i tre video precedenti a questo nel canale, ve li lascio magari linkati da qualche parte. Vi consiglio di andare a vederli, sono più intrattenitivi del solito, però sicuramente passano anche lì qualche nozione interessante, sono sicuro che vi piaceranno particolarmente. Torniamo ora però alla nostra classica routine. L'idea era di fare oggi, di proporvi oggi un'altra overview dei post che mi avete lasciato nel team Forza e Muscoli e poi successivamente andiamo, settimana prossima andiamo a fare di nuovo una tier list, se siete, se vi piace l'idea. A proposito scrivetemi anche qua sotto, anche se già raccolto qualche vostra risposta, scrivetemi qua sotto di che cosa volete veder fatta la tier list la prossima settimana. Allora, dicevamo, abbiamo accumulato un po' di post e direi che possiamo partire, dato che non ne facciamo da un po', con un bel check tecnico, in questo caso di Mattia, che ci posta uno stacco e ci dice Ciao raga, oggi ho fatto questa singola RP8, di solito ammetto che non mi filmo sbagliando. Bravo, bravo, è importantissimo ragazzi, filmarvi è determinante effettivamente per tenere sott'occhio, specialmente se, sia se non avete un coach, sia se ce l'avete. Filmare è una cosa determinante effettivamente per tenere sempre in considerazione come ci si sta muovendo sotto carico, idealmente facciamolo anche nelle serie di riscaldamento per arrivare al carico allenante, per vedere come in quella determinata seduta ci stiamo avvicinando al carico allenante, come ci stiamo muovendo. Se è il caso di fare qualche modifica prima ancora di arrivare al carico allenante, mi viene in mente per esempio uno squat, un classico problema che ho io nello specifico con lo squat è che nel walkout a volte tendo ad allargare troppo la stance dei piedi e quindi mi torna utile registrarmi, farmi una clip in più per vedere effettivamente come faccio un walkout in quel determinato giorno e se è il caso di stringere o allargare in base al contesto. Questo lo faccio naturalmente specialmente quando devo fare magari delle serie un po' più pesanti, a range di ripetizioni un po' più bassi e quindi ho bisogno che sia tutto super preciso nel momento in cui mi approccio per la punta all'alzata. Bando alle ciance, guardiamoci l'alzata di Mattia, che in questo caso fa uno stacco. La forma personalmente mi fa letteralmente schifo, penso che devo partire col sedere più in basso e tenere più neutro il collo, però se parto giù col sedere in partenza sale il che mi fa pensare che sia giusto così. Quindi se può essere d'aiuto sono 185 per 100 kg. Ah, non 185 ripetizioni per 100 kg di stacco, stai parlando dei tuoi centimetri 185. Con le gambe belle e lunghe e forse questa è la causa, grazie per l'aiuto. Assolutamente sì, sicuramente questa è una delle cause fondamentali che ti fa avere questa partenza col culo più alto e naturalmente questo angolo risulta più aperto e questo angolo risulta invece più chiuso. Questa è la classica partenza che si ha quando si hanno i femori particolarmente lunghi e quindi ci si deve per porta di cose posizionare in questo modo. Io stesso ho un setup simile a questo. Come fare per andare incontro, ovviare questo problema? Si passa ad un affinamento della tecnica e quindi si cerca di pullare the slack, tirare via la piega dal bilanciere, quindi tensionare il bilanciere è determinante anche in questi casi perché ci permette effettivamente di verticalizzare il movimento, ci permette di spostare addirittura un pelo più indietro la scapola, la spalla se ne va un pelo più in alto, questo angolo leggermente, perché comunque stiamo andando a prendere tensione sul bilanciere, questo angolo leggermente riusciamo ad aprirlo ancora di più e quindi riusciamo allo stesso tempo a chiudere un pelo di più questo angolo. Tutto questo ci permette di ottimizzare, di equilibrare un po' di più il setup che la nostra conformazione invece ci porterebbe ad assumere nel momento in cui facessimo una partenza più passiva e di botto, quindi il classico strattonamento del bilanciere. E infatti qua vediamo che la partenza è proprio con le spalle che rimangono nella stessa posizione, non mi preoccuperei troppo di questa curva, comunque rimane lì per tutto il movimento, soltanto che il fatto di non prenderti questo slack, di buttarti un pelo più indietro non ti permette di verticalizzare per bene il movimento e quindi rimarrà sempre uno stacco a gambe semitesi a tanto carico del glutei e posteriore della coscia che non ti permette di far lavorare per bene invece i quadricipiti, la parte anteriore della gamba. Comunque stiamo facendo un carico elevato che per una singola ripetizione naturalmente non è l'ideale per identificare una corretta esecuzione. Quindi prova Matt, sicuramente ti ho fatto passare anche qualche clip perché ne ho a disposizione per partire da esattamente a che cosa mi sto riferendo. Prova con questi tip che ti ho passato e fammi sapere se riesci a risolvere. Qui vediamo un Filippo d'albero selvaggio che sbuca dal nulla, perché Amedeo, ormai conosciamo tutti Amedeo, grande Ame, che ci dà sempre spunto per parlare di varie cose. Vediamo cosa dice Filippo. Per buttarsi in avanti per allungare bene il muscolo per poi dopo riportare indietro. Questo non lo vogliamo fare per due motivi. Uno perché il movimento delle scapole è a carico principalmente della parte alta della schiena e non del grandorsale. Verissimo. Però non dimentichiamoci che il grandorsale si attacca all'omero e l'omero si attacca alla scapola. Quindi nel momento in cui la scapola se ne va avanti, anche l'attacco del grandorsale si allunga, se ne va avanti allo stesso modo. E quindi questo ci permette di portarci a casa uno stretch, un power stretch, uno stretch sotto tensione più interessante per il grandorsale. che naturalmente, come dice Filippo giustamente, non avverrà soltanto nel grandorsale, ma avverrà anche nella porzione della schiena alta, con tutti i muscoli di accenti e la scapola che sono appunto attaccati alla scapola realmente, che magari in quel determinato caso non vogliamo troppo far lavorare. Però se abbiamo la possibilità di portarci a casa un movimento, la mia argomentazione è, se abbiamo la possibilità di portarci a casa questo stretch, questo power stretch per il grandorsale, che sappiamo essere particolarmente, lo stretch sotto carico sappiamo essere particolarmente importante come promotore di stimolo a livello di ipertrofia muscolare. Quindi essenzialmente la contrazione eccentrica è probabilmente una delle più interessanti da tenere in considerazione nel momento in cui si ricerca l'ipertrofia muscolare. Perché non ricercarla in esercizi come questo, in cui ci viene così semplice, ci verrebbe così semplice farlo? Quindi allungare il grandorsale, portarci a casa questo stretch sotto tensione, che ci crea danno muscolare, che ci crea tanta tensione muscolare, quindi ci permette di portare a casa uno stimolo particolarmente interessante, anche se questo va comunque a dare un po' più di stimolo alla porzione più alta della schiena. Perché immagino che sentiamo... E quindi stiamo deviando l'attenzione dal muscolo che vogliamo allenare verso un altro, e due per questa cosa qua. Comunque l'idea che volevo portare io è questa, è giustissimo quello che dice Filippo, però è un po' come il cerchiamo di tenere le scapole depresse quando facciamo alzate laterali perché così non lavora il trapezio. Il concetto è identico e l'abbiamo trattato proprio nel video precedente a questo in cui facciamo check tecnico alle volte alzate di questa playlist, che appunto si parlava del classico problema delle alzate laterali che fanno lavorare il trapezio. Qual è il problema? È naturale che il trapezio lavori, il nostro intento è comunque dare più stimolo al deltoide. In questo caso è normale che il trapezio lavori, che i romboidi lavorino, che tutti i muscoli per la punta adiacenti alla scapola lavorino quando andiamo in questo grande allungamento, però non confondiamo questo dicendo che allora se questi lavorano non va bene per far lavorare il grandorsale. No, anche il grandorsale lavorerà, anzi, gli potremmo proporre un forte stretch sotto in allungamento e quindi può diventare interessante portarci a casa una contrazione come questa. Questa è la mia argomentazione. Non dico assolutamente che quello che dice Filippo è sbagliato, però naturalmente è da contestualizzare e capire in base al contesto perché si fa l'esercizio. Come sempre parliamo di uno strumento che ci porta a raggiungere un obiettivo. in base all'obiettivo utilizzeremo lo strumento in maniera più o meno, non più o meno, in maniera diversa. L'importante è sempre fare le scelte in maniera consapevole e non fare le cose a caso senza avere effettivamente un obiettivo in testa, ecco. Qui Alessandro addirittura ci propone un video dell'Ottocento, probabilmente, quando sono andato a trovare a Filippo e ragazzi di pesistica in Morese per fare dei video fighissimi che sono andati molto molto bene nel canale, che mi sono piaciuti un sacco. Filippo e tutto il team sono dei ragazzi fantastici, abbiamo passato una bellissima giornata assieme. Questo in particolare è il video in cui si parla del front squat. Filippo ci parla del front squat. E Alessandro ha il dubbio riguardante la posizione degli omeri quando si tratta di posizione di front rack. Nel suo caso, il suo dubbio era proprio riguardante la posizione che assume Marco qui, che effettivamente sembrerebbe portare a pensare che l'avambraccio debba risultare perpendicolare al pavimento. Ma naturalmente non è assolutamente così. Marco si è approcciato lì all'esercizio in questo modo. Non so se è un fatto di mobilità, non credo, perché Marco è una bestia con l'essere ovviamente olimpionico e quindi non penso che abbia problemi di mobilità da questo punto di vista. Probabilmente molto semplicemente in quel caso specifico si è approcciato all'esercizio in quel modo per totale rilassatezza nel volerlo fare. Ma lo stesso Filippo nel video ci parla di come effettivamente invece il modo ideale per approcciarci allo squat frontale proprio ad avere l'omero bello elevato, le scapole belle protratte e quindi l'avambraccio non potrà in questo modo risultare perpendicolare al pavimento anche perché se l'avambraccio risulta perpendicolare al pavimento tutto il carico graverà effettivamente sul polso, sulla mano e non è assolutamente quello che stiamo ricercando nel caso dello squat frontale. Ciao Fili e ciao a tutti i ragazzi di Pesistica Nuorese e grazie a Alessandro che ci ha sbloccato questo bel ricordo. Volevo concludere facendovi vedere questa piccola chicca che è una figata colossale. Rocky Robert ci fa vedere questa OHP con la bamboo bar se non sbaglio, giusto? ci fa notare quanto effettivamente è complesso questo movimento quanto effettivamente è bastardo questo movimento che comunque naturalmente non suggerisco quando l'idea è portare il migliore stimolo a livello ipertrofico sul muscolo di riferimento e qui si nota proprio come la stabilità dell'esercizio viene infinitamente meno e quindi naturalmente sappiamo bene che non puoi sparare con un cannone da una canoa e quindi capiamo bene che in questa modalità non possiamo imprimere la migliore tensione a livello del muscolo di riferimento e sicuramente l'obiettivo qui è altro sicuramente qui risulta molto molto interessante fare questo tipo di lavori per lavorare su tutti i muscoli adiacenti alla scapola sulla stabilità effettivamente di questi muscoli che generano sulla scapola lavorare sulla mobilità lavorare sulla coordinazione sulla propriocezione ma naturalmente tutte queste cose esulano effettivamente da quello che è l'ideale movimento per stimolare l'ipertrofia muscolare per generare tensione a livello specifico nel muscolo di riferimento se si hanno problemi a livello di stabilità a livello di mobilità a livello della scapola della spalla cosa molto molto comune sicuramente risulta particolarmente interessante e divertente diciamocelo approcciarci a un esercizio come questo la bamboo bar sinceramente me la ricordavo ancora più flettente mi sembra più rigida del solito però magari mi sto sbagliando io fatemi sapere voi nei commenti direi che ci siamo non voglio assolutamente far durare troppo questi video voglio tenerli il più possibile easy peasy lemon squeezy se volete lasciare i vostri post lo sapete a me fa super piacere fare questi video rispondere a quelle che sono le vostre domande eventualmente correggere i vostri movimenti vi aspetto nel team forza e muscoli dovete soltanto fare l'iscrizione nel gruppo facebook e poi lì potete postare e commentare tutto quello che volete io sarò lieto di vederlo assieme a voi registrando video come questi se volete anche propormi i meme a me piacciono particolarmente i meme se volete farmi vedere le vostre alzate a me piacciono particolarmente vedere le vostre alzate se volete propormi la raccomandazione di un amico e collega come Filippo potete tranquillamente farlo e vi dirò la mia su quello che viene detto nel determinato contesto come sempre vi dico che se state cercando un coach un mentore che vi segua nel vostro percorso di fitness di costruzione muscolare se volete migliorare se volete uscire dai vostri stalli se volete migliorare la vostra composizione corporea vi aspetto link in descrizione compilate il modulo prenotiamo una videochiamata ci conosciamo per bene vi faccio sapere effettivamente se posso aiutarvi e da lì potete tranquillamente decidere se far entrare parte o meno del percorso che voglio proporvi sulla base delle nuove informazioni che otterrete se volete continuare a sostenere il canale e vi ringrazio tanto perché lo state facendo in tantissimi potete passare tranquillamente su Prozis codice sconto Mitch per avere il 10% di sconto più omaggi state pronti perché il 16 domenica ci sarà il nuovo lancio di Kaizen assolutamente da non perdere nuovi capi nuove magliette oversize e i pantaloncini fighissimi tutta roba di qualità estremamente interessante che uso sia per allenarmi sia per uscire e fare il figo avevo questa maglietta questa stessa maglietta di Kaizen anche quando ho fatto l'evento di Adaptive quindi per farvi capire effettivamente che la qualità c'è la uso tutti i giorni questi capi sono estremamente soddisfatto della loro qualità non potrei essere più soddisfatto anche lì codice sconto Mitch per avere il 10% di sconto su tutto il carrello io finisco di cianciare vi auguro una fantastica fantasmagorica giornata per ora vi saluto e ciao grazie 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 grazie